Oh Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino, come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, e presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Oh, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno, e siamo certi che provvederai, perché come a paga di Galilea possa tornare la gioia e la festa, dopo questo momento di prova. Aiutaci, madre, divino amore, a contornarci al volere del Padre, e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze, si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. amore, sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio. santa madre di Dio, non dispensare le suppliche di noi, che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, come il Giro e l'odio, salve e l'età. grazie a tutti, grazie a tutti. grazie a tutti.